Ciao ragazzi, sono Samuele Zaccagno. Perché scegliere il classico all'indirizzo matematico? Beh, qui facendo un'ora in più di matematica alla settimana, rispetto a tutti gli altri corsi, si approfondiscono argomenti aggiuntivi. Le attività di PCTO inoltre sono orientate su materie scientifiche e facciamo progetti in relazione alla matematica e alle scienze. Quest'anno faremo anche delle lezioni con i ragazzi più piccoli, nel progetto Peer to Peer. Inoltre, andando al matematico, si possono fare bellissime esperienze extrascolastiche. Per esempio, l'anno scorso, io e la mia classe, siamo andati a Milano, al Museo delle Scienze Galileo Galilei, dove ci hanno anticipato lo studio della fisica e delle particelle, un argomento interessantissimo che avremmo dovuto anche svolgere, approfondire quest'anno in terza andando al CERN di Cinevra, ma purtroppo a causa del Covid dovremmo saltare. Si spera che l'anno prossimo, fra due anni, ci potremo riandare. Un'altra cosa importante, io pratico sport a livello agonistico e ci sarà sicuramente tra voi qualcuno che come me fa molto sport e molti allenamenti. Quindi, il mio consiglio che vi do è quello di non lasciarsi fasciare la testa prima di rompersela. Sarà molto impegnativo ovviamente, e io ne so qualcosa, faccio otto allenamenti alla settimana, però la voglia, cioè se avete la voglia e siete disposti a fare dei piccoli sacrifici, non sarà un problema congiugere la scuola allo sport.